Dimmi che cos'è che ci hanno fatto Dimmi cosa c'è che io non so Perché tutto è finito come cenere in un piatto E quei ragazzi che eravamo noi non ci sono più E scambiare due parole brevi Con la notte blu dei benzinai Io ti baciavo mentre tu piangevi E adesso che io piango tu ti bacerai Qui c'avevamo una fossa Una fossa di mezzo centenetro Ma ora è tutto bello liscio Che merite? Allora siamo alla fine Siamo quasi alla fine della cartatura Come si dice? Cartatura O si inizierà la fase della verniciatura 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 Qui c'è da una buca Che è stata fonda a mezzo centimetro Le abbiamo spuccate tutte Cartate Quando si carta il legno Usa sempre seguire la verniciatura principale L'andamento delle verniciature Questi segni naturali del legno Questo è un montano Classico legno usato da Da molte marche Tra cui la tende Fatso che questo un stand Messicano O due nero a più All'inizio Grazie a tutti